Ciao a tutti Come state ragazzi? Speriamo bene, qua se stanno a melange fate caso Se ce le pio pure io Oggi facciamo il yoga challenge Stanno comodi Praticamente prendiamo una foto e facciamo noi la posa nella quale sta nella foto Iniziamo il video, la sigla Dove siete? Sto facendo le prove di yoga Allora, facciamoci di nuovo ragazzi Vogliamo che ci sia video anche sui nostri social Vi lascio in descrizione la nostra pagina Facebook e Instagram Cliccate dal like ragazzi perché siamo anche lì Fai giù anche tu me lo Arriba io Ma lei dal cazzo Sono un po' pazzo È normale che sono un po' pazzi Che cazzo era quello che stava dietro Il polpa è iedato Stacca dio caro Ma baffanculo C'è in su reddito Ok Camela Io mi metto Vieni ti metti sotto E tu Stai così Beh io ho capito come lo so poi Allora Io sto così mi pare Sì Poi vorrei stare davanti a te Dai guardi Stai fino ad altro il culo Molto più alto Ecco così Lei dovrebbe spingere Ah È bene o male per la stia Penso di sì Ma dai Tu devi stare per terra così Una gamba per terra Poi con un'alzata così Ok c'è brava Dai passione Vai provaci Io mi ammazzo E guardate bene come devi stare Devi stare proprio con la testa per terra Poi fra le mani tutti in alto Alza la gamba Una gamba la ti alza Ecco così Oh Io vi Uno Due Tre Quattro Tutto ok? Ok Ora ci tocca prendere Stai le braccia tipo così Io sto facendo tipo così E anche l'uguale Ok Stai Uno Via Aiuto Madonna Ma te la finisci di buttare da me addosso con lo sporco negro là vicino Non c'è Oh Dai Non sai poi Guarda che te lo davo Muovete No Ma che sai Sembra il corpo super tagliato Ma guarda che scopo che favo No Mi hanno spingiato Uno Due Tre Ma Ragazzi Stai fu riuscire Ma Ma Che schifo E' una Fata Perché non se l'ava Senza una puzza Tu E' una Due Oh Marco Come cazzo fa Ma Mi piace Peso Ti peso io Sì Dai un po' Ma Fai schifo Fai schifo Sei a rovine Dei YouTube Italia Guardate sto negro Non ricordavo Ma 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 E' uno screen Su Facebook Questo è il negro Dei YouTube Italia E poi ti dovresti lanciare Come fa quella In avanti Come Titanic E' una madonna Prendi Allora Cazzo Ti senti aria 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 Sbrigatevi Allora Eh Vieni più qua Con le gambe Non avete fatti due Con queste tre Ecco Damo No Perché non mi hai seguito Daniel Non so Ti senti aria Ti senti aria Ti senti aria Ti senti aria Allora ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Commentate Dai E siete andate Una puzza di piedi E noi ci vediamo Al prossimo Ti senti aria No No Aiuto No 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 Quanto Posso Bagliare No